Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il primo ministro d'Irlanda, Enda Kerry. I cordiali colloqui, si legge nel comunicato della Sala Stampa Vaticana, hanno evocato lo storico legame tra la Santa Sede d'Irlanda e hanno sottolineato il costante contributo assicurato dalla Chiesa Cattolica in campo sociale ed educativo. Ci si è soffermati pure sull'importanza del ruolo dei cristiani nello spazio pubblico, soprattutto nella promozione del rispetto della dignità di ogni persona, a cominciare da quelle più deboli e indifese. La conversazione è quindi proseguita con uno scambio di vedute sull'Europa, con particolare riferimento al fenomeno migratorio, all'occupazione giovanile e alle principali sfide che il continente è chiamato ad affrontare dal punto di vista politico ed istituzionale.